Ebbene sì ragazzi, anche quest'anno potrete sfidarmi al fantacalcio e vediamo chi riuscirà a battermi. Ciao a tutti ragazzi e bentornati da Carmi Special ebbene sì, oggi inizia la Lega Pubblica 2021-2022, la Carmi Specials League. In realtà si chiamerà Carmi Specials League, tutto attaccato, poi vi spiegherò appunto come iscrivervi e potrete sfidarmi. Ormai sono tanti anni che faccio la Lega Pubblica gratuita, ci si iscrive gratis, ci sono anche dei premi in palio. E potrete quindi invitare chiunque ragazzi, amici, parenti, fate iscrivere. Chiunque voglio arrivare quest'anno a battere ogni record, 10.000 iscrizioni voglio, 10.000 partecipanti. Ogni anno infatti sono sempre stati di più, ricordo ancora la prima nostra Lega Pubblica è stata a 2.500 squadre circa e l'ho vinta proprio io quell'anno. L'anno successivo sono arrivato mi pare quinto, sempre su 2.500 o 3.000 squadre. L'anno scorso siamo arrivati ai 7.000 circa iscritti alla Lega e quest'anno voglio raggiungere i 10.000. Quindi mi raccomando partecipate e fate partecipare. Adesso vi spiegherò tutto il regolamento cercando di prepararvi un po' all'iscrizione anche se comunque avrete modo, visto che ci sono comunque ancora due settimane, avrete modo appunto di preparare la vostra rosa, di modificarla, di studiare quali acquisti magari fare. Ho cercato anche delle soluzioni migliori per quanto riguarda la lista, quindi le quotazioni, i ruoli e allora a chi mi sono affidato? Mi sono affidato quest'anno ragazzi a Fanta Club. Fanta Club dà infatti la possibilità di personalizzare la propria Lega a nostro piacimento ragazzi, veramente sotto tutti i punti di vista. Volevo utilizzare magari un listone, ad esempio noi utilizzeremo il listone gazzetta ma con alcune modifiche di ruolo, potevo anche addirittura modificare le quotazioni se avessi voluto. Infatti ero indeciso se utilizzare ad esempio quello di Fanta Club appunto a livello di quotazioni, o meglio di ruoli ma magari modificare le quotazioni oppure direttamente quelle della gazzetta a livello di quotazioni modificando qualche ruolo. Ed è proprio così che farò, adesso vi mostrerò anche quali ruoli ho sostituito, quali ho modificato. Quindi capite bene che la piattaforma vi permette di personalizzare la propria Lega a piacimento, anche a livello di pagelle ragazzi, vi fornisce varie redazioni come appunto quella di Fanta Club più 3, quella della gazzetta, quella del Corriere, quella di Tutto Sport, ve ne dà diverse opzioni ma le potete mescolare addirittura anche con una percentuale. Potete dire ma guarda prendi in considerazione per un 40% la pagella di ad esempio della gazzetta, per un 20% quella del Corriere, l'altro 40%, 20% più 3% insomma potete mescolare le redazioni per dare un peso specifico alla pagella. Questo per darvi libera scelta sulle redazioni a utilizzare, ma ci sono anche tante opzioni all'interno dell'applicazione, con ad esempio la possibilità di fare le aste app on the live, di fare la consegna live, cioè di andare a modificare eventualmente alcune scelte di formazioni durante la giornata, nel caso in cui a quei giocatori ancora non siano giocati, non abbiano giocato, ma andiamo all'interno della nostra lega, vediamo il regolamento e vediamo come partecipare. Io vi lascerò ovviamente il link in descrizione per accedere direttamente alla lega, nella quale poi basta fare e scrivi squadra e via, siete già dentro, ok? Scrivete una squadra e potrete partecipare. Per la lega degli abbonati invece poi vi spiegherò come fare a fine video, perché appunto sarà possibile fare una lega un po' più complicata a livello di regolamento, ovviamente con meno iscritti perché gli abbonati non sono lo stesso numero di iscritti, quindi forse più probabilità di vittoria, vedremo, vedremo come ve la caverete. E vi ricordo che il vincitore invece della lega degli abbonati, oltre ai premi che verranno poi impostati in base al numero di partecipanti, così come appunto nella lega pubblica, ci sarà la possibilità di partecipare al Fanta YouTube poi il prossimo anno per la lega degli abbonati, ma ci arriveremo dopo. Andiamo alla lega pubblica. Allora, Carmi Special League, vi lascio in descrizione come detto il link, questo è il nome della lega. Per quanto riguarda la modalità di iscrizione, come vedete, è libera, ok? Gratuita, ok? Sarà somma punti, modalità di formazione ovviamente delle squadre a quotazioni, ovviamente non c'è asta ragazzi, tutte queste squadre come legge siamo. Si fa ovviamente un fata calcio al listone come ogni anno. I moduli sono i classici, niente moduli a quattro punte, niente moduli strani, no, moduli classici. I ruoli che ho modificato dal listone, il listone ragazzi basta che andate ad esempio qui dove c'è il Serie A, andate in quotazioni e andate ad impostare moduli standard, quotazioni Milano. Avete tutte le quotazioni, ma tranne alcune che ho modificato. Quali sono? Sono Ansaldi che ho spostato difensore, era listato centrocampista. Gonzales che era listato centrocampista, l'ho spostato attaccante. Marusic l'ho rispostato in difesa, era centrocampista. Sansone l'ho messo in attacco insieme a Ilicic, ok? Entrambi listati centrocampisti li ho spostati in attacco. Tra parentesi, come vedete, appunto i ruoli che erano originali. Poi, al momento già c'è qualcuno che si è iscritto insieme a me, e neanche il tempo di farci il video, è incredibile. Per quanto riguarda la costruzione della rosa, 3, 8, 8, 6 e la composizione, 300 fantamilioni. Attenzione perché sono tanti. Ho voluto mettere un budget abbastanza comodo, si può fare una bella squadra abbastanza forte. Ovviamente non potrete prendere proprio tutti i top di tutti i reparti. Dovrete fare delle scelte, ok? Quindi rinunciare magari a qualche top in qualche reparto, ma potrete comunque fare degli ottimi acquisti, fare una formazione forte. Poi, ovviamente, vedremo chi avrà la meglio. Chi si iscrive una volta iniziata la Lega, che è una volta iniziato il campionato, entrerà con un punteggio di 66 per ogni giornata persa, ok? Per quanto riguarda le redazioni, come vi dicevo, le redazioni dei voti, io ho scelto quelli della Gazzetta, ragazzi, ok? Ci affidiamo a loro, ok che ogni tanto sbagliano, gonfiano un po' i prezzi, però voglio comunque affidarmi a loro. Per quanto riguarda gli assist, stesso discorso, le redazioni, o meglio, le quotazioni sono quelle della Gazzetta, resteranno quelli perché li ho controllate, non ho visto qualcosa di clamoroso, qualcosa di scandaloso, a parte appunto, come detto, un po' i ruoli spasati. Ah, una cosa, come vedete qui non c'è malinoschi, ma perché? Perché nella lista, alla fine risultava centrocambista. Ora, non so se sia stato un errore di compilazione, però, essendo che lì era centrocambista, io non l'ho ritoccato. Magari ci hanno ripensato quelli della Gazzetta, non lo so, non lo so. Fatto sta che, per quanto riguarda i, diciamo, i recuperi delle partite, andremo a, o meglio, qui c'è un no, ragazzi. In realtà, qui andremo ad utilizzare i voti dei recuperi. Ok, attenzione. Poi, comunque, il regolamento, ragazzi, lo potrete trovare, guardate qui, sul mio sito, area di gioco, andate in lega pubblica, che è nelle mie leghe, e ci sono i regolamenti della lega pubblica, qui c'è il link anche direttamente alla lega, è scaricabile quindi il regolamento qui sulla destra, e poi la lega degli abbonati anche, va bene? Per quanto riguarda la lega degli abbonati, le istruzioni poi le darò all'interno del gruppo Telegram apposito, va bene? Poi, alcune funzioni sul regolamento necessarie da scoprire, allora, andiamo direttamente sulla sintesi, sul file Word che ho utilizzato per creare il regolamento. Per quanto riguarda i bonus, bonus classici, l'unica differenza è che l'autocall del portiere è meno 1, non meno 2. Poi, modificatore esteso, quindi a 6.25 scattano due punti e così via. Ok, attenzione. Il bonus più particolare che ho deciso di inserire è il bonus capitano. Mi sono trovato abbastanza bene nel Fante Europeo, l'ho voluto testare lì, quindi ho deciso di reinserirlo, quindi avremo il bonus capitano anche nella nostra nuova Lega Pubblica. Ok? Per quanto riguarda le fonte, diciamo, delle redazioni, ve l'ho già spiegata, il mercato. Arriviamo al mercato, ragazzi. Come funzionerà il mercato? Allora, essendo la Lega Pubblica un po' più facile della Lega degli abbonati, ho deciso di fare sempre le tre sessioni distribuite in questo modo, tra la undicesima e dodicesima, tra la ventitresima e ventiquattresima giornata, tra la trentesima e trentunesima giornata, ci sono appunto questi giorni dove si potrà fare mercato con campi illimitati. Non avrete credit in più, ma potrete sfruttare le plusvalenze e cambiare quindi completamente la vostra rosa. Tutti i 25 giocatori. Ok? Non ci sarà budget in più, quindi attenzione, ovviamente dovete cercare di magari di beccare qualche plusvalenza. Va bene? Per quanto riguarda invece la Lega degli abbonati, ci saranno sì crediti in più, ma i cambi saranno limitati. Ok? Ci saranno in quelle finestre solo dieci cambi a disposizione con dei crediti in più. Mentre per quanto riguarda una sessione extra, praticamente, a fine, diciamo, calciomercato adesso di agosto, quindi a settembre, ci sarà poi una sorta di mini-ass, mini-sessione, dove potrete sostituire solo i giocatori, non più in lista. Metti caso qualcuno ha comprato un giocatore e poi è stato dato un'insertivi o in un'altra categoria, ok? Potrete magari sostituirlo. Va bene? Gratuitamente, cioè senza pregare i cambi, ecco. Per quanto riguarda il rinvio partite, come vedete, si aspetterà il recupero dei voti, ok? Quindi devo andare a settare bene all'interno delle impostazioni della Lega, perché forse mi sono dimenticato questa opzione. E per quanto riguarda la competizione, come ho detto, sarà somma punti e i premi dovrebbero essere per i primi in classifica, come appunto l'anno scorso, e il miglior punteggio stagionale, cioè il punteggio, che cavolo ho schiacciato, e il punteggio, come detto, record. Va bene? Credo di essere stato chiaro a livello di regolamento, ma come detto, lo potrete scaricare all'interno del mio sito, ok? Nella sezione appunto Lega Pubblica. Per quanto riguarda gli abbonati, come detto, ci saranno anche meno crediti, perché non saranno il budget a 300, fantamilioni, ma si scenderà a 290, quindi capite bene che sarà già più complicato di iniziare, nel senso che dovrete stare attenti a centellinare ogni singolo credito e fare scelte più oculate nella Lega degli Abbonati. Va bene? Detto questo, ora ovviamente mi aspetto tantissimi, tantissimi voi che vorranno partecipare per sfidarmi. Vediamo quanti mi arriveranno davanti. L'anno scorso credo siano stati almeno un centinaio su 7.000 squadre. Gli anni precedenti sono stato anche più attento e sono arrivato ancora più in cima. come detto la prima nostra Lega Pubblica l'ho vinta io anche se poi ovviamente i premi li ho fatti slittare. Vedremo quest'anno come andrà a finire. Comunque qui nella sezione delle impostazioni potrete dare un'occhiata a tutte le regole che ho impostato all'interno del sito del sito e della Lega dovessi notare qualche errore di compilazione lo andrò ad aggiustare prima che partirà la Lega dalla prima giornata. Va bene? Quindi mi raccomando iscrivetevi. Vi lascio il link in descrizione voi fate iscrivi squadra e potrete benissimo partecipare. Semplicissimo no ragazzi? Quindi mi raccomando fate delle scelte attente avete un bel po' di tempo no? Più di due quasi tre settimane per studiare la lista fare le vostre scelte fare varie opzioni e poi scegliere la migliore. Va bene? Detto questo ringrazio anche tutti coloro che stanno sostenendo il progetto i tippers ragazzi i 282 tippers o meglio non tutti parteciperanno parteciperanno quelli che saranno tippers da dal 22 in poi potranno avere accesso alla Lega degli Abbonati nel senso che io considero una fascia anche per il stesso discorso per i sub ragazzi chi parteciperà alla Lega degli Abbonati tutti coloro che hanno fatto un tip o una sub dal 22 luglio al 22 agosto in questo mese ma potranno anche partecipare quelli ovviamente successivi cioè tutti coloro che faranno poi una sub o un tip poi successivo ok anche all'inizio del campionato come detto si potrà entrare con un punteggio di 66 a giornata persa va bene spero di essere stato chiaro ragazzuoli va bene un abbraccio da carmi special e che dire buona fortuna vediamo chi riuscirà a battermi va bene dai sono curioso vediamo quanti arriveranno davanti a me va bene un abbraccio da carmi un abbraccio